Uno spettacolo teatrale dal titolo Io, Pablito e Berzot e gli altri ragazzi dell'82. Così Ciccio Graziani da Aretino porterà sul teatro Petrarca alcuni aneddoti inediti di quel mondiale dell'82. Arriverà ad Arezzo anche la coppa originale conquistata dagli azzurri in quell'anno così speciale. Il ricavato di questo spettacolo andrà interamente al calcit. L'aspetto primario è proprio quello, quello di poter fare uno spettacolo che possa piacere ma che nello stesso tempo abbia una finalità interessante che è come quella di donare tutto l'incasso, tutto ciò che abbiamo raccolto a livello finanziario alla nostra associazione al calcit che noi aretini in modo particolare ma credo anche tutta la provincia e altre realtà vogliono molto bene perché poi hanno all'interno questo progetto scudo che è l'assistenza domiciliare per i malati terminali oncologici e vi posso garantire l'ho vissuto sulla mia pelle con mia suocera, sono dei ragazzi e delle ragazze spettacolari. Ringrazio il Presidente Gravina perché quando gli ho chiesto se era possibile in via eccezionale avere la coppa qui al teatro in maniera che la gente che verrà potrà vedere quella vera, quella reale, quella che abbiamo vinto quel luglio a Madrid penso che sia un'attrazione interessante anche quella per la gente. Come si fa a comprare un biglietto, a prenotare? Dunque intanto possono venire presso la segreteria del calcit che siamo aperti dal lunedì al venerdì se no possono telefonare al calcit e possiamo fare la prenotazione e dare immediatamente l'assegnazione del posto perciò basta telefonare al calcit e si trovano tutte le spiegazioni.